buongiorno o buonasera popolo nero azzurro buonasera a voi che avete vinto il derby buonasera ragazzi finalmente riesco a farvi farvi un video con tutta calma e in tutta tranquillità ieri sera ero lo stadio il casino tornare a casa non riuscivo non riuscivo ho fatto un video così molto terra terra in diretta da san siro poi ho passato tutta la notte a iaculare non riuscivo non riuscivo a fare un video non riuscivo a fare un commento della partita oggi finalmente torno a casa dal lavoro stanchissimo perché veramente non ho chiuso occhio io avevo detto queste sono le classiche partite dove dove comunque non dormi perché se perdi non dormi dalla rabbia se vinci non dormi dalla gioia grazie a dio sono andato sono tornato a casa felice decisamente contento anche se abbiamo abbiamo passato abbiamo passato brutti istanti passato brutti istanti perché inizia la partita e ti rendi conto che che l'inter non c'è ti rendi conto che l'inter non c'è il milan ha impostato la partita molto bene molto messa bene in campo pressava veramente altissimo praticamente al milan è riuscito è riuscito ogni cosa l'inter non riusciva a volte uscire dall'area si vedeva proprio attimi di panico padelli per godin godin a padelli padelli a devrai devrai a scrini a scrini a brozovic brozovic a padelli non avevamo idea l'inter è veramente bloccata bloccatissima e io onestamente avevo sempre detto non sottovalutiamo le ste partite perché anche se il milan è meno 19 il milan sta facendo cagare è comunque un derby infatti il milan è entrato in campo al primo minuto con la mentalità da derby milan ha guerrito milan che ci ha messo in difficoltà milan che è riuscito a passare in vantaggio due volte fine del primo tempo l'inter ha regalato come si faceva da ragazzini l'handicap di 2 a 0 al milan perché quando eravamo ragazzini no sai la squadra più forte diceva beh dai vi facciamo partire con un vantaggio di 2 a 0 così almeno non rompete i coglioni questo è quello che è successo peccato che non fosse non fosse tutto programmato quindi primo tempo 2 a 0 per il milan è la sud festeggiava la sud sfotteva partivano i classici posti messaggini no dove dove sentivi i cuginetti prenderci per il culo e si sentivano già nella testolina la musichettina della champions league no perché grande rimonte del milan a meno 7 dalla champions league partiva sta musichettina della champions però cosa succede che nel secondo tempo succede una cosa molto molto strana il milan rientra in campo con dida kafu stam nesta maldini sedorf pirlo gattuso kaká shevchenko ed hernan crespo san siro a un certo punto sembra la taturk di istambul che cosa è successo in quegli anni alla taturk di istambul successe che a un certo punto la squadra che era in svantaggio inizia una piccola rimonta e la squadra che era in vantaggio alla fine del primo tempo bella ubriaca negli spogliatoi inizia a non capirci più un cazzo e quindi quando poi la serata deve entrare nel verso giusto inizia a riuscirti ogni cosa gol della madonna di marcelo brozovic ed è 2 a 1 posizione bellissima di sanchez che tutti hanno iniziato a dire era in fuorigioco sto cazzo sanchez non era in fuorigioco scatta sul filo del fuorigioco alla pippo in zaghi palla per vestito ed è 2 a 2 cazzo ed è 2 a 2 avete iniziato a non capirci più un cazzo a certo punto 3 a 2 stefan devrai e pare voci dicono che sul 3 a 2 si è entrato morgan in campo e abbia detto dove è andato bugo non si trova più bugo è sparito il milan 3 a 2 e alla fine rovedone luca con 4 a 2 4 a 2 non ci volevo credere ragazzi sul 2 a 0 penso che in pochi poche persone onestamente potevano immaginare un ribaltone del genere io l'ho pensato se riusciamo a fare un gol nei primi 10 possiamo raddrizzare la partita ne abbiamo fatti due nei primi 15 neanche quindi bellissimo bellissimo secondo tempo secondo tempo abbiamo giocato da inter primo tempo veramente ragazzi imbarazzanti veramente non salvo nessuno povero padelli povero padelli veramente sto cristiano non ha giocato per una vita si ritrova a fare adesso lo spezzone di campionato più brutto probabilmente per l'inter infatti si parla di viviano che si sta allenando con i nerazzurri mi spiace per padellone però abbiamo bisogno abbiamo bisogno di certezze secondo tempo secondo tempo monumentali un po tutti devrai ragazzi devrai devrai ma qui stiamo continuando a parlare l'olanda con van de ligt con van dijk van dijk come cazzo si chiama per l'amor di dio van dijk van dijk nulla da dire oh ma ragazzi ma abbiamo stefan devrai ma cazzo ma come fa l'olanda a non cagarsi stefan devrai ma come fanno i giornali a non parlare di stefan devrai e parlano sempre dei soliti bonucci e chiellini e romagna oh stefan devrai ragazzi uno dei difensori più forti che l'abbia mai visto elegante educato no veramente una meraviglia una meraviglia guarda se avesse le tette stefan devrai mi ci masturberai tutti i cazzo di giorni con stefan devrai barella barella secondo tempo porco cazzo ragazzi che che giocatore nel secondo tempo veramente secondo tempo mostruosi mostruosi tutti ericsson se entra quel gol mi butto dal secondo se entra quel cazzo di gol di ericsson io mi butto dal secondo dopo ragazzi dopo wesley snyder abbiamo finalmente un giocatore con dei piedi bellissimi un giocatore che può veramente risolvere anche le partite con un tiro da fuori vabbè tiro da fuori ci stanno anche andando abbastanza bene tra coppa italia derby non posso lamentare ma le punizioni le punizioni sono state veramente un qualcosa che è venuto a mancare negli anni e christian ericsson direttamente da skoglund dove cazzo abiti in danimarca forse può veramente riportare l'inter anche a battere qualche punizione in grazia di dio ragazzi io non so cosa conte abbia veramente detto all'inter negli spogliatoi fatto sta che siamo rientrati veramente cazzutissimi ci siamo portati a casa un derby sperato bellissimo non l'ho vincente dal 2010 siamo felici cosa cosa possiamo dire siamo felici non abbiamo vinto lo scudetto assolutamente non abbiamo vinto lo scudetto abbiamo vinto il derby vi lamentate fate le battute che suonavamo il clacson sì sì suoniamo il clacson perché la stracittadina perché dobbiamo far sapere a tutti che milano siamo noi quindi si suona il clacson sì non me ne frega un cazzo suoniamo il clacson caroselli va bene però non dirmi il pulmo va bene andiamo in giro in pulmo una scoperta a festeggiare sì abbiamo vinto il derby bene ragazzi sono stanco morto me ne voglio andare a casa ieri sera abbiamo perso la voce ieri sera abbiamo perso altri anni di vita io ho perso anche il cappellino nel casino perso un cappellino però una cosa è certa che non abbiamo perso il derby che abbiamo vinto il derby quindi ragazzi adesso speriamo di di uscire di uscire bene da questo filotto di partite inter napoli lazio inter inter samp poi ci sarà il ritorno col napoli juve inter e adesso iniziano i cazzi veramente abbiamo portato a casa il derby ragazzi vi saluto vi auguro una buona serata e sempre e solo forza inter